Musica Ben ritrovati nel salotto di Caffè di Traverso, nuova puntata, nuovo ospite. Noi continuiamo ad occuparci delle emergenze epidemiologiche e delle conseguenze sui vari comparti economici. In questa puntata ci occupiamo di quello turistico e lo facciamo con un ospite d'eccellenza, lo facciamo con il presidente del Consorzio Turistico Maratea, Biagio Salerno. Benvenuto presidente, grazie per aver accettato il nostro invito e da Maratea, la nostra perla del terreno che noi vogliamo partire, siamo alle porte della nuova stagione balneare, la stagione balneare 2021. Ci lasciamo alle spalle quella del 2020 che si era svolta secondo gli auspici dopo un periodo particolarmente critico con l'emergenza sanitaria che già aveva fatto i suoi danni nella nostra regione. Poi c'è stata una nuova ondata, quindi nuove difficoltà, ma noi partiamo da un elemento importante, un elemento che ci dà anche speranza. Vediamo. Accelerare sulla campagna vaccinale, in aggiunta a misure di tracciamento e monitoraggio sanitario per i turisti. Lo chiedono albergatori e ristoratori di Maratea con un appello indirizzato alle istituzioni regionali in vista della bella stagione, ma soprattutto del prestigioso riconoscimento per la perla del terreno della bandiera blu 2021. Destinazione green e sicura, che soddisfa criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione al servizio offerto, tenendo in considerazione ad esempio la pulizia delle spiagge e gli approdi turistici. L'attribuzione della bandiera blu a Maratea rafforza la scelta che gli operatori turistici stanno sostenendo per rilanciare la Basilicata nei mercati nazionali e internazionali. E il commento di Biagio Salerno, presidente del Consorzio Turistico Maratea, che evidenzia come qualità dell'ambiente e sicurezza sanitaria, siano le carte principali che intendiamo giocare per salvare la stagione che sta per iniziare. Gli albergatori e i titolari di imprese dell'accoglienza, della ristorazione, del commercio e dei servizi, fa sapere il Consorzio, sono pronti a Maratea per aprire le strutture e le attività già dalla metà di maggio. Per il presidente del Consorzio c'è bisogno però di azione di sostegno e ristoro di una campagna di promozione sui mercati interregionali e nazionali, in attesa dell'approvazione di un piano di rilancio della filiera turistica di Basilicata. L'auspicio è che tutto questo serve a stimolare le amministrazioni locali ad adoperarsi tempestivamente in vista della bella stagione e della ripartenza. Allora Presidente, si parte dalla bandiera blu e di buon auspicio, ma attualmente qual è la situazione del comparto turistico a Maratea che credo rispecchia anche quella che è la situazione anche delle altre zone turistiche della Basilicata? Diciamo la verità, la bandiera blu è stata la prima bella notizia dopo tante brutte notizie. Noi ci stiamo prodigando, abbiamo già messo in essere diverse azioni di rilancio del turismo in un momento un po' oscuro, perché non abbiamo avuto quelle linee guida che noi cercavamo, quelle indicazioni e quelle date certe che erano il nostro punto di attenzione. In questo momento sicuramente il turismo sta pagando tanto, noi abbiamo bisogno di rilanciare quello che è la nostra offerta, perché è sicuramente un'offerta che promette buona realtà economica per il nostro comparto. Però stiamo anche cercando di, come dire... Noi ricordiamo che quando si parla del comparto turistico si parla anche di una filiera che gira attorno al comparto, che allo stesso modo ha avuto dei contraccolpi rispetto alla crisi sanitaria. La filiera è una filiera abbastanza vasta perché poi il turismo abbraccia tantissimi settori. Si va dall'agroalimentare a tutto il resto. Sì, sì, sì. I servizi, io non voglio dimenticare nessuno, perché non è soltanto il comparto del ricettivo o della ristorazione, ma è anche il balneare, le guide, le agenzie di viaggio. È un comparto molto complesso. E poi certamente noi, come dire, diamo ospitalità, diamo il bello di quello che è la vita di tutti, le vacanze. Perciò sono vacanze importanti. E certamente stiamo cercando di dettare determinate linee per il rilancio della nostra regione, affiancandoci a quello che è il rilancio dell'Italia in generale. Ma lei ha fatto riferimento al fatto che la situazione è rimasta critica perché non vi siete sentiti sostenuti. Lei intendeva a livello economico o nel senso che non vi sono state poi delle misure anche di promozione attiva del territorio necessario proprio a rifidelizzare i turisti, perché c'è anche questo. Molti hanno paura da una recente statistica che è stata realizzata in collaborazione con l'Università del Sagno relativa proprio al comparto turistico, a questa ripresa tanto attesa. Si fa riferimento al fatto che il 47% del potenziale di presenze rinuncia sempre per paura di un eventuale contagio, del contesto comunque sanitario che resta ancora preoccupante, ma anche per una situazione economica che non permette di poter fare le vacanze. Sì, non ci dobbiamo dimenticare, vado un po' a ritrosso un attimino nel tempo, che noi entriamo in questa pandemia già in difficoltà. Noi avevamo una situazione economica, parlo nazionale, non solo locale, che comunque ci ha dato dei cattivi auspici di ripresa. Adesso l'arrivo della pandemia ha creato sicuramente delle incertezze. Devo dire che abbiamo avuto una situazione un po' traballante nel 2020, perché era tutto nuovo per noi, era disorientante, era come camminare in un corridoio al buio in effetti, senza sapere dove era l'uscita. Adesso ci aspettavamo da parte principalmente del Governo nazionale, perché devo dire la verità, la Regione ha risposto bene, non ci ha abbandonato, ha risposto subito a quelli che sono stati i nostri gridi di allarme. Abbiamo avuto una comprensione importante e devo riconoscere che è stata forse tra le poche regioni d'Italia che ha risposto al comparto in un determinato mondo. Ricordiamo che è stato istituito un fondo anche da parte della Regione Basilicata, dal Dipartimento delle Attività Productive. Noi abbiamo interlocuito sempre con l'assessore Cuparo, in effetti, che è stato molto attento al comparto. Devo riconoscere che ha cercato di non dimenticare nessuno in questo. E ha ascoltato il nostro gridi di allarme perché era preoccupante. Sì, ma poi materialmente siete stati ristorati, cioè si è attinto a questo fondo. Sì, chi aveva i requisiti idoni e certamente poteva attingere a questo fondo e molti hanno avuto l'opportunità. Quello che non ha risposto bene è stato sicuramente il Governo nazionale promettendoci, facendo tante promesse, ma creando sicuramente una vera incertezza. Le dico che io personalmente sono un albergatore, vengo dal turismo, sono nato nel turismo. Siamo forse tra i pionieri del turismo nella nostra realtà e Maratea vive di questo. Ad esempio Maratea, il turismo è tutto, è l'economia principale. Viene meno questo settore, viene meno tutto il resto, in effetti. E abbiamo avuto un momento molto particolare. Adesso c'è un po' di disorientamento, ma siamo felicissimi di aver sentito le ultime notizie. Come si sta preparando Maratea alla ripresa? Allora, siamo un po' in ritardo, ma questo non è dovuto sicuramente agli operatori turistici, ma a quelle date certe che noi ci aspettavamo. Ci aspettavamo probabilmente dal Governo centrale una risposta diversa. Non abbiamo sicuramente collimato su determinate scelte, non so se definirle politiche o sanitarie. Ad esempio uno di questi sono proprio il settore della ristorazione. Non aprire i ristoranti al chiuso con tutte le precauzioni sanitarie che erano già state dettate nel 2020. Non c'è stata una definizione data dalla scienza che il ristorante al chiuso poteva essere motivo di contagio. Per questo motivo questa situazione ha creato sicuramente delle incertezze. Abbiamo avuto persone che drammaticamente dal dramma della pandemia siamo andati al dramma economico, che è quello più preoccupante. C'è qualcuno che ha rinunciato del tutto a riprendere la propria attività, sia perché non aveva la possibilità dal punto di vista economico per le perdite che c'erano state. Noi ricordiamo che nel comparto turistico si arriva a percentuali di perdite di fatturato rispetto agli anni precedenti, fino anche al 90%, perché nel comparto turistico, in modo particolare in quello di Maratea, si lega direttamente quello congressuale, quello degli eventi, quello del wedding, che sono totalmente venuti meno e questo ha significato una mannaia sulla testa degli operatori turistici. Una possibile ripresa, tornando a quelle che sono state le iniziative da parte del governo regionale, potrebbe essere anche questa. Vediamo. Dopo le numerose sollecitazioni arrivate dagli operatori del comparto, che sperano di poter vivere un'estate simile a quella del 2020, caratterizzata da un basso numero di contagi e da presenze turistiche tutto sommato soddisfacenti, considerata l'emergenza sanitaria, la Regione Basilicata ha deciso di riproporre anche per la stagione estiva 2021 il progetto turismo Covid-free per favorire vacanze in sicurezza sulla costa tirrenica lucana, come nel Metapontino, nei parchi nazionali del Polino e dell'Appenino Lucano e in tutti i comprensori turistici delle aree interne. Come è già avvenuto lo scorso anno, le unità speciali Covid saranno attivate a Chiaromonte, Maratea, Policoro e Matera, strutture che si occuperanno dei tamponi per i turisti che arriveranno in Basilicata senza la certificazione di un test effettuato nelle 48 ore precedenti e per tutti gli operatori del settore, a cominciare dai gestori e dal personale delle strutture ricettive. C'è poi l'ipotesi sempre più concreta di predisporre la dose di richiamo del vaccino ai turisti in vacanza in Basilicata che hanno già ricevuto la prima dose nella Regione di Residenza. Sul punto è però atteso un pronunciamento definitivo del Governo nei prossimi giorni, dopo il quale verranno eventualmente messe a punto tutte le procedure per garantire anche quest'ulteriore servizio per i turisti che la prossima estate sceglieranno la Basilicata. Presidente, lei crede che questa iniziativa possa essere d'aiuto, di slancio ad una ripresa vera e propria nella cittadina dove lei opera? Guardi, sicuramente sì, anche perché fa parte delle nostre richieste. Io le dico che l'anno scorso noi abbiamo avuto l'opportunità di interlocuire con il Prefetto e ha dato una grande mano al nostro comparto, perché l'istituzione è di una possibilità di avere dei tamponi anche per il nostro personale e per una tranquillità sanitaria, ha sicuramente dato una mano. Questo potrebbe essere una grande opportunità, ne sono convinto, e anche tenere in considerazione la possibilità di poter anticipare la vaccinazione per tutto il comparto. Anche perché noi sappiamo che invece per quanto attiene gli ospiti, per alcuni settori, proprio come quello del wedding, è necessario questo Green Pass per poter partecipare agli eventi, alle feste, ai banchetti. E quindi dare la possibilità di ottenerlo è già un passo in avanti rispetto, perché molti sono scoraggiati anche da questo, chi non è riuscito ancora a fare semmai il richiamo, perché nel Green Pass deve essere comunque accertato il completo ciclo di vaccinazione, oppure deve aver contratto il virus ed essere guarito, oppure deve aver fatto un tampone nell'arco di 48 ore prima all'ingresso nella cittadina nella quale bisogna risiedere. Quindi diciamo che questo potrebbe essere d'aiuto. Poi lei in una recente lettera che ha inviato al Governo nazionale, lo diceva ad inizio trasmissione, non avete ricevuto le risposte attese, quelle che sono state le vostre istanze non hanno ricevuto delle risposte concrete. Lei chiedeva al Ministro Carfagna, al Ministro per il Sud e la coesione sociale, degli interventi concreti, anche dal punto di vista infrastrutturale. Maratea soffre anche di un sistema aviario molto particolare. Noi sappiamo che sulla Statale 18 ci sono, come di consueto, dei pericoli relativi al costone roccioso che puntualmente non regge e con delle interruzioni, questo vuol dire anche per la viabilità interna e soprattutto nei periodi più floridi dal punto di vista turistico, dei disagi enormi. Voi che genere di risposte avete avuto dal Ministro e se ci sono state sollecitazioni anche presso il Dipartimento Infrastrutture della Regione con l'assessore Mera affinché l'ANAS intervenga in modo definitivo? Guardi, solo per finire un attimino del discorso del wedding, le volevo dire che Maratea a livello internazionale è una destinazione molto gettonata. Gettonata, sì. Devo dire che Maratea è stata sempre molto attenta ai motimoni degli stranieri, perciò abbiamo avuto un'attenzione a livello internazionale con ultime prenotazioni che poi disdette per la pandemia, c'erano degli indiani che venivano a sposare a Maratea, dovevano venire a sposare a Maratea. Il comparto in questo momento è in difficoltà, è fermo completamente. Certamente il Green Pass che possa servire per dare un inizio, benvenga. Questo è. Certamente non siamo noi quelli che dobbiamo istituire questo, però crediamo che potrebbe essere sicuramente un risultato positivo. Ritornando invece alla risposta, alle richieste della Ministra Carfagna, che è stata gentilissima, ha risposto con due telefonate alla mia lettera, nel cui contenuto c'era sicuramente un'attenzione per il comparto, per le difficoltà e per queste date certe e per questo coprifuoco che sicuramente era un motivo... Avrebbe limitato anche il lavoro. Sicuramente il movimento e sarebbe stato motivo per molti stranieri e anche molti italiani di scegliere destinazioni diverse rispetto alla nostra bella Italia, alla nostra bella regione Basilicata. Per quanto riguarda invece la viabilità, la Ministra mi ha riferito che il Governo sta facendo un duro lavoro per quanto riguarda due interventi importanti. Uno è principalmente il discorso dell'alta velocità, che dovrebbe passare per Lago Negro e arrivare a Praia Mare. Per noi potrebbe essere una svolta importante per il sud tutto della Basilicata. L'altro è invece il via libero ormai all'aeroporto di Ponte Cagnano, che potrebbe essere per il Cilento, per il sud della Basilicata e per l'Alto Tirreno, sicuramente un ottimo collegamento internazionale. Per quanto riguarda invece la 18, lei ha perfettamente ragione, famosa spesso per i blocchi dovuti a caduta massi, dovrebbero partire, penso subito dopo la stagione, dei lavori che la regione Basilicata seguirà, che è quello della messa in sicurezza della costiera libero. Spesso è compromessa anche, a volte sembra che questa perla nel vero senso della parola sia un po' presa di mira, finisca nel mirino di psicopatici, perché ci sono anche, spesso si nascano degli incendi dolosi, che compromettono ancora di più la tenuta del costone, che costeggia appunto tutto il litorale. E questa è un'altra piaga per Maratea, perché puntualmente durante l'estate ci troviamo di fronte a queste situazioni. Sì, è vero, lei ha perfettamente ragione, non riusciamo a capire come mai questo possa succedere, abbiamo chiesto controlli maggiori per evitare che questo possa accadere e nello stesso tempo di vigilare con attenzione, perché il nostro patrimonio è sicuramente l'ambiente, il territorio, quello che è la conformazione geomorfologica della nostra bella Basilicata, in effetti è sicuramente una vigilanza maggiore, potrebbe garantire ancora di più. Certo, perché poi la maggior parte degli incendi si rivelano dolosi, quindi c'è proprio qualcuno, qualche piromane, che si diverte poi però a compromettere totalmente quella che potrebbe essere una stagione turistica, una stagione balneare più serena e più tranquilla. Quindi si spera comunque che, come diceva lei, l'alta velocità riesca a raggiungere, ad attraversare la Maratea, così da poter favorire più arrivi. Noi vediamo qui che il Frecciarossa comunque ha toccato la stazione di Maratea, questo è già successo, quindi non è qualcosa di impossibile, noi naturalmente ce lo auguriamo, ma volevo fare riferimento ad un evento importante, che è quello del G20, che si terrà a fine giugno a Matera. Maratea poteva essere coinvolta, ricordiamo, con l'arrivo dei ministri dell'economia nella città di Matera. Guardi, Maratea sì, poteva essere coinvolta. È stata coinvolta? Forse noi non lo sappiamo questo? Guardi, no, anche perché non mi risulta che abbia un ruolo. Non ci sono delle tappe? No, almeno salvo che io non sia informato di questo, però non mi risulta che Maratea sia stata coinvolta. Poteva essere però un... Io dico che Matera e Maratea potrebbero fare un grande matrimonio, anche perché in una regione bella come la nostra, interessante, che ha grandi potenzialità turistiche, sicuramente le destinazioni pioniere del turismo possono essere motivo di attrazione e far scoprire quello che è il territorio e la valenza del nostro territorio e le peculiarità, perché noi viviamo in una regione che ha bisogno soltanto di valorizzare quello che ha, non si deve inventare nulla in sostanza. Certo, perché poi i ministri degli esteri e dell'economia presenti a Matera, insomma, con una tappa prolungata anche a Maratea, potevano essere comunque di riferimento poi nel proprio paese per la promozione del nostro territorio. Se mai i due sindaci, Domenico Bernardi e il sindaco di Maratea Soppelli, potevano intendersi da questo punto di vista. Diciamo che non c'è stata questa intuizione, perché un giorno in più, un giorno in meno per i ministri, non penso che sarebbe stato complesso. Ma probabilmente non è neanche colpa dei sindaci, perché ci sarà un'organizzazione... Sì, naturalmente, anche se Maratea dal punto di vista epidemiologico vive una situazione molto più tranquilla. Oggi anche c'erano pochissimi contagi, siete quasi covid free, siete quasi usciti fuori. La nostra amministrazione è molto attenta al territorio, ha delle scelte anche di strategia, dialoga spesso con noi operatori, perciò è molto vicina a noi. Abbiamo avuto modo di interloquire spesso con l'assessore al turismo Valentina Trotta, che ha dato sicuramente dei buoni input a quello che è il comparto. Il nostro sindaco ha sempre dato la dovuta attenzione a quello che è il... con le nuove tecnologie, in effetti, facendo sulle piattaforme del... e confortando anche gli operatori in molti casi di un momento particolare che stavamo attraversando. Devo dire la verità che c'è una buona coesione, un buon compromesso tra operatori e amministrazione nel far riuscire una stagione, che è quella 2021, con ottimi risultati. Da parte dell'amministrazione comunale avete avuto delle risposte da punto di vista dei ristori. Noi sappiamo comunque che i nostri comuni sono alle prese con dei bilanci sempre molto tirati, perché i sostegni non sono più quelli di una volta, mentre le spese si sono duplicate. Voi ci sono state messe in campo delle iniziative da parte del comune di Maratea? I comuni, come lei ha detto, non hanno grande forza. Certamente un territorio difficile come Maratea non è facile da poter amministrare. Sicuramente qualche cosina è stato messo in campo, come per esempio il dilazionamento dei pagamenti, delle tassazioni. Abbiamo avuto anche l'opportunità che la Regione sia intervenuta sull'anno 2020 pagando il 70% della Tari, perciò una risposta dal nostro territorio arrivata e sicuramente dobbiamo ringraziare la Regione Basilicata di questa attenzione e sicuramente ne siamo onorati e fiduciosi di farne parte e anche dell'attenzione che il comparto ha avuto in modo riservato. Per i comuni, ripeto, l'attenzione è quella nel dare la possibilità a chi non aveva spazi esterni di concedere la possibilità di poter installare dei tavolini esterni e usufruire degli spazi pubblici all'aperto, in effetti, perciò mettendo in condizione i ristoranti che non avevano l'opportunità di poter avere questi spazi a costo zero e automaticamente poter esercitare la propria professione. Nonostante Maratea abbia ottenuto o continua ad ottenere la bandiera blu, però abbiamo di contro legambiente che con la sua goletta verde mette in risalto a volte la necessità di intervenire per quanto attiene alcune zone dove gli scarichi avvengono direttamente in mare e noi abbiamo avuto anche dei problemi negli anni passati c'è stato necessario l'intervento anche del presidente Bardi, dell'assessore all'ambiente Rosa e dell'Arpab che si sono recati sul posto dopo che erano emerse delle contaminazioni in alcune zone. Questa è anche una nota dolente di questo territorio che va tutelato. Sicuramente il territorio va tutelato, abbiamo avuto delle difficoltà tecniche più che altro che hanno portato a dei risultati negativi che abbiamo portato subito al riparo perché proprio l'amministrazione si è prodigata nell'attivare tutte quelle che potevano essere le attenzioni sul territorio e portando risoluzione. Certamente il nostro mare va attenzionato come i nostri fiumi vanno attenzionati e dove noi ci aspettiamo che la nostra regione, la nostra amministrazione locale si attenda a evitare delle scelte che possano portare risposte negative a quello che il territorio oggi ci dà come garanzia che la natura è incontaminata e per fortuna Maratea non ha avuto speculazione di lizie e da questo punto di vista la dobbiamo difendere. Ecco, questo ecco. C'è questa questione dell'impianto di trattamento dei rifiuti a San Sago che nel territorio calabrese però è molto vicino al fiume Noce che si va a collegare direttamente al mare di Maratea. Lei come vede questa situazione? Ci sono stati degli interventi da parte soprattutto dei Verdi che si sono opposti crede che è necessario anche che il Comune lo faccia? Guardi, il Comune che o sappia già si è attivato insieme ad altri comuni della Valle del Noce. Hanno fatto fronte comune contrariamente a questo progetto alla realizzazione di questo progetto? Più che altro le dico la verità io non entro nel merito tecnico ma le dico che secondo me un depuratore del genere non può esistere in un'area come la Valle del Noce dove ci sono programmi di sviluppo turistico e dove si parla della valorizzazione del Noce. In più non dobbiamo dimenticarci che noi dobbiamo difendere il nostro ambiente il futuro è l'ambiente e noi lo dobbiamo difendere perciò proprio in conseguenza a questo io non vedo di buon auspicio il funzionamento di un depuratore che possa fare trattamenti di rifiuti speciali nella nostra area. Ma Maratea lega il suo nome anche a delle manifestazioni sul cinema che sono delle manifestazioni importanti in un'ultima marateale che si è svolta l'anno scorso insomma nonostante ci trovassimo ancora in una fase molto particolare dal punto di vista sanitario lei crede che anche questo genere di manifestazione può servire a rilanciare il territorio soprattutto a far insomma approdare nuovi visitatori che poi possono comunque raccontare narrare di questa bellezza che appartiene alla regione basilicata sicuramente sì la visibilità a livello internazionale come Marateale ha dimostrato anche in un momento di particolari incertezze ha dato sicuramente la possibilità al territorio di vivere un momento diverso avere la possibilità di un appuntamento fisso che possa rappresentare un prodotto del cinema su un territorio che ogni ancolo può essere motivo di registrazione di cortometraggi oppure di film eccetera apprezzato dagli attori apprezzato anche dai registi io dico che si dovrebbe investire di più tant'è che c'è stato c'è stato un post video di Carlo Verdone che invitava proprio a Maratea a questo appuntamento con questa grossa manifestazione e voi come la vivete voi albergatori come un intralcio o come un momento florido ci sono realmente delle prenotazioni c'è gente che gira nei locali nei ristoranti noi la vediamo come una tensione mediatica a livello internazionale perciò noi abbiamo delle immagini chiedo alla regia di mandarle anche per vedere il tenore della manifestazione ci sono ospiti anche di fama internazionale al Marateale l'anno scorso insomma ne abbiamo avuti Richard Gheer è così quella è stata diciamo l'attrazione principale di questa manifestazione Sofia Loren la nostra grande Sofia Loren ma anche cantanti insomma abbiamo siamo entusiasti una località come Maratea merita anche perché diciamo ha sempre curato la cultura del cinema e c'è stata sempre una certa attenzione poi Maratea è anche meta di molti famosi dello spettacolo per le proprie vacanze perciò rafforzare questo legame sarebbe opportuno dobbiamo dire la verità Nicola Timpone che è l'ideatore di Marateale è sicuramente una persona che si sta prodigando per migliorare sempre di più e diciamo la verità abbiamo sempre fatto bella figura abbiamo fatto bella figura certo è un motivo d'orgoglio anche per tutta la Basilicata non solo per Maratea così come anche tutto quello che avviene che è avvenuto nella città di Matera dovremmo insomma trarre beneficio tutti i lucani non solo a livello locale quali sono siamo in chiusura le previsioni lei che cosa si aspetta e ha la possibilità se vuole di lanciare un suo appello anche alle istituzioni per quello che c'è ancora da fare guardi la voglio ringraziare per questa opportunità perché per noi soprattutto per il nostro comparto è importante io sono qui in rappresentanza e a voce un po' di tutti quelli che rappresentano il nostro comparto siamo fiduciosi che la ripresa è alla porta abbiamo bisogno soltanto di un po' di attenzione dal punto di vista di quello che è la ripartenza noi abbiamo bisogno di una ripartenza più certa e che ci dia sicuramente una fiducia maggiore i presupposti li abbiamo perché il nostro territorio il nostro territorio sicuramente risponde bene a quelle che sono i target e le richieste a livello nazionale e internazionale cosa potrei chiedere in questo momento molta attenzione invito sicuramente le istituzioni regionali a valutare la possibilità di poter vaccinare il nostro comparto anche perché tutte altre destinazioni turistiche si stanno prodigando in questo questo potrebbe dare maggior sicurezza a chi lavora nel comparto ma sicuramente a chi sceglie come destinazione la nostra bella regione perciò spero di un'attenzione maggiore da questo punto di vista su questa richiesta poi cosa dire in questo momento noi siamo feriti e abbiamo bisogno di riprenderci perciò quello che è possibile a livello nazionale è quello di avere un'attenzione su quello che è la tassazione la possibilità di poter avere un ravvedimento su quello che è la tassazione del comparto in generale non entro nel merito dettagliato è necessario che ci siano degli sgravi perché nei momenti in cui non è stato possibile lavorare ma nei momenti in cui anche tutto il settore ha dovuto far fronte a degli investimenti per mettere in sicurezza le strutture perché per rispondere a quelle che sono le esigenze e per ottemperare le misure che sono state stabilite nei protocolli di sicurezza proprio per riaprire insomma gli operatori hanno dovuto fare degli investimenti anche perché gli spazi sono limitati quindi gli ingressi sono a volte dimezzati proprio per garantire a tutti il distanziamento tutto quello che ci viene imposto e allo stesso modo insomma è necessario che ci sia una risposta anche da parte del governo nazionale a quelli che sono stati gli sforzi da parte vostra messi in campo per aprire in sicurezza bene allora noi non possiamo che farle un grande in bocca al lupo sperando le previsioni sono buone oggi leggevo che addirittura tra gli italiani comunque per un buon 87% sceglieranno di fare le vacanze in Italia non vorranno spostarsi perché insomma anche sempre per il timore di ritrovarsi in contesti sanitari pericolosi ma c'è la possibilità anche dell'arrivo di stranieri come voi a Maratea siete abituati ad accogliere e si stima anche un più 12% rispetto a quelli che sono state a quelle che sono state le presenze nel 2020 quindi i buon auspici le previsioni sono positive noi non possiamo fare altro insomma che augurarci che il tutto vada bene e che ci sia una ripresa vera e propria e soprattutto definitiva e che non ci siano degli stop and go come ci sono stati che non sono stati affatto insomma piacevoli grazie mille presidente Salerno grazie per il suo contributo grazie a voi telespettatori telespettatrici per averci seguito ad un prossimo appuntamento con caffè di traverso grazie a voi grazie a voi